ciao fiore oggi ti raccontiamo come ha vissuto il pubblico le sette ore di festival e i 30 cantanti dentro l'ariston signora come sta benissimo lei platea costata tanto no ma non si paga niente a scrocco attenzione che è passata avanti la signora ha scroccato a fila e invece 14 13 signora mi sbaglio attenzione c'è il sorpasso e c'è passi davanti come la chiamano a napoli don antonio signor don antonio andiamo sarò tutta la sera con voi tutta la sera io non pago e salve sono con don antonio la potevamo fare l'arga tu perché non mi guidi prima lei da quanti anni viene qua 25 anni ma ogni anno trovo cambiato li spostano le file signora antonio tutto a posto ma che fa applaud inizia primo break pubblicitario magari il signor antonio ha un po di fame prenda un biscottino o le sale la glicemia com'è piena di sale e zucchero quello c'ho pure l'acqua che non la fanno entrare mi tenga il microfono lei beva beva don antonio sono tornato ho portato il caffè me lo tenga lei bravo non fatevi vedere che non si può bere incomincio ad amarti non faccia così che mi arrossisco quando parlo io me lo sposta verso di me non va bioccate dopo il caffè a napoli si beve meglio il caffè non si lamenti mo questo break pubblicitario signor antonio come va si dovrà avrei un po di sonno lo sa che l'ho vista con l'occhio abbioccato da lì ho portato il play condivida con la signora ci abbiamo anche il cuscino dopo si guardano noi ci guarda dopo resto qua fine domani sera